I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I, I, I'm a lead, and when they lay me down a rap, I know I was always rapping Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono DarkHouse92 e oggi vi volevo far vedere una cosa molto importante Perché è molto importante? Perché ragazzuoli, girando sul web, come faccio di solito, o su Youtube, o su Google, o su altri siti molto 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 intriganti Non parlo di YouPorn ovviamente, ma parlo ovviamente di siti riguardanti Fortnite E praticamente, girando già da un bel po', mi esce fuori una cosa veramente sconvolgente Perché? Ve lo dico subito Perché praticamente ho trovato una foto, ecco, un'immagine Molto 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 intrigante E adesso ve la faccio vedere Eccola qua ragazzuoli Questa foto è qualcosa di veramente assurda Perché, come potete vedere, ci sta il Weapon Customizer Cosa significa Weapon Customizer? Che puoi cambiare la modalità di colori nello Scar Nello ScarHack, come in altre armi E ovviamente saranno tutte pagate con i V-Bucks I V-Bucks, appunto, ci saranno il Body Style Il Side Il Camo L'Accent 2 L'Accent 1 E il colore base, ovviamente Ragazzi, è qualcosa di veramente eccezionale Sarà messo presso su Fortnite Perché è veramente una cosa assurda Io non l'ho mai visto, ragazzi È la prima volta che lo vedo E appena l'ho visto ho detto No, ci devo fare un video Perché i miei follower I miei, come dice tu banchi io I miei followers No, sto scherzando Comunque i miei iscritti Devono, devono essere al corrente di questa cosa Di questa cosa molto E dico molto importante Io ragazzi, che vi devo dire Vi ringrazio a tutti per aver visto questo video Anche se è poco Diciamo piccolino come video Però ne valeva veramente la pena Un bacione dal vostro Dark House 92 Noi ci vediamo Prossimamente Con nuovi video E nuove live E che dire Wuhuuu Bella ragazzi